benvenuti bentornati a tutti avete visto cosa abbiamo qua uno dei maiali dell'elettrotecnico un forno a microonde voi direte ma tu l'hai già smontato con gran successo un forno a microonde in passato e se non lo direte perché non avete visto il video ve lo lascio qua su è vero allora a me è scoppiato se qua è stato il mio forno a microonde quello grigio che sta lì in cucina che è sempre stato lì anzi mi metto qui una foto di repertorio qualcuno che mi segue su instagram sa di che sto parlando e qui ci sarebbe tutta una lunga digressione su eventuale spianto di pezzi per riparazione di un altro forno a microonde alla fine però ho riparato questo come microonde di scotch e quindi andiamo avanti detto questo però ho parlato già troppo ci avviciniamo e vi faccio vedere come si comporta questo forno a microonde eccolo qua allora vabbè a parte la sporcizza di scotch che era stato messo per evitare che si apresse lo sportello detto questo diamogli corrente ho già collegato la spina come vedete si accende voi non lo vedete perché il piatto non c'è ma il motorino qui sta girando se noi andiamo a chiudere lo sportello si spegne e non succede nient'altro come vedete tutta la selezione dei tasti non va il display non si accende la manopola non interviene quindi sostanzialmente la situazione sembra disperata eccezione fatta per il fatto che il motorino gira che è una meraviglia ora stacchiamo la spina e andiamo subito a smontarlo dispone di viti a stella per fortuna e appunto andiamo riesco di smontarlo io tanto inutile che ve lo faccio vedere anche perché dall'inquadratura non si vede niente e dopo ci rivediamo quando ho finito eccoci qua ho sfruttato tutte le viti lo apro ricordo a tutti tutti che quando si apre un forno a microonde la prima cosa da fare è prendere una pinza con il manico isolato e andare a fare un cortocircuito tra questi due poli del condensatore ok in modo che se dovesse essere rimasta qualche carica elettrica almeno siamo sicuri di scaricarla e non prendere la scossa ok ora possiamo lavorare in modo relativamente sicuro prima cosa andiamo a verificare che il fusibile sia sano ovviamente il fusibile è sano è un motorino non girerebbe però noi per sicurezza per non sapere leggere e scrivere prendiamo il nostro bel fusibilino questo qui e lo proviamo segna zero quindi il tester funziona la resistenza la vede se noi andiamo a posare qua segna giustamente zero che vuol dire che il fusibile è sano andiamo quindi a rimetterlo in posizione al posto suo a questo punto ci guardiamo un attimo se ci sono segni di bruciature cose visibili cavi staccati cose insomma che a grandi linee possono non far funzionare il nostro forno a microonde questa scheda elettronica del forno a microonde di fine corsa degli sportelli come abbiamo visto funzionano perché altrimenti la luce non si accenderebbe qui c'è la scheda non vedo cose visibilmente bruciate proviamo un attimo a staccare questi connettori in modo da liberarci un attimo la vista qui in realtà un pochino i diodi sono un po' anneriti non so se riuscite bene a vedere ma magari spostando un po' la luce difficile che in video renda comunque i diodi che stanno qua sotto tanto bene non stanno però non sono neanche marcissimi qui ci sono i relè di comando e al di sotto c'è la scheda quella di segnale quello che io volevo vedere al di là dello stato di conservazione della scheda che comunque è importante è se questa scheda presentava un qualche genere di fusibile o protezione che poteva essere in qualche modo saltata stesso discorso vale per queste queste sono delle termiche che staccano in caso di sul riscaldamento l'alimentazione però questa funziona per forza perché inserire la lampadina e se non la lampadina non si accenderebbe stesso discorso vale per la ventola la ventola alimentata dalla stessa termica e siccome la ventola va perché l'abbiamo sentita andare quella termica è per forza sana per quanto riguarda il neutro invece questa controlla il neutro che va ad alimentare il grill per cui passa di qui passa di qui e poi va giù per cui non sappiamo se va o non va ma non ci interessa perché se anche non andasse al limite non funzionerebbe il grill proseguiamo con la nostra analisi del guasto direi che a questo punto per quanto ne possiamo vedere da qui è necessario andare a smontare la pannellatura cosa che si può fare tramite queste viti qui sono non sono tantissime sono tre per cui direi di fissare di nuovo il telefono a suo posto che provvedere allo smontaggio a questo punto smonto le schede le verifico a occhio e poi provando con le varie tensioni a vedere se si accendono ovviamente non funzionano allora la scheda di potenza probabilmente funziona non ho misurato le tensioni in uscita con la scheda accesa perché non è bellissimo da farsi una cosa un po pericolosa ma deduco che funzioni perché questa alimentata correttamente a 5 12 volt non fa alcun tipo di comportamento non si accende il display non succede niente per cui presumibilmente questa è guasta mentre quella di potenza funziona ora volendo questa è una scheda logica possiamo farne bene a meno e su questi qui su questi qua che sono scusate ma lo spazio un po quello che è comunque su questi qua questi qua neri che sono i relè di potenza io potrei staccare i fili metterci dei pulsanti le forno a microonde funzionerebbe benissimo però poi avrei una porcheria cioè avrei un forno a microonde mezzo smontato con i pulsanti fissati sopra e tutto questo ci piace ecco ho preso questo che è la pulsantiera di una stufa recuperata un sacco di tempo fa qua sopra il link al video di quando l'ho smontato che ha gli stessi connettori e ho collegato tre dei quattro pulsanti qui esattamente come erano collegati qui uno purtroppo mi si è spaccato mentre lo smontavo per cui ho dovuto fare questa porcheria cioè recuperare il cavo originale della stufa e giuntarlo ma tanto appunto è una prova giusto per capire se questa forno a microonde senza l'elettronica funzionerebbe allora attacchiamo la corrente e qua riprendiamo al punto dove eravamo rimasti quindi questo sta girando la ventola sta girando la luce è accesa così com'era prendiamo un bicchiere d'acqua perché forno a microonde non bisogna farli andare a vuoto tra l'altro se chiude dovrebbero spegnarsi sì perché è proprio meccanica lì non passa dall'elettronica però apriamolo per sicurezza apriamolo mettiamo un bicchiere premendo manualmente i pulsanti che invece avrebbe acceso il relè se funzionasse tutto correttamente ecco qui ho preso l'acqua la appoggiamo all'interno chiudiamo proviamo io non so cosa succederà magari scoppia magari no sembra non succi per nulla ecco fatto sta acceso eh voi forse non vi rendete conto ma vi assicuro che sta andando il forno a microonde si sente proprio il rumore del magnetron che va spegniamolo vediamo se l'acqua sia un attimo scaldata beh non è proprio fredda fredda proverei a farlo andare ancora un attimo senza esagerare perché comunque sempre cosa di prova è ok direi che è andato abbastanza l'acqua è calda ragazzi funziona perfettamente lo so che voi non ci potete credere però se la facciamo andare ancora un po' la vedete fumare anzi vai facciamola andare ancora un po' ah ecco che cosa ho acceso con questi altri due tasti grill sì sì è il grill acqua è calda allora ho capito come funziona questo qui è il microonde e questi due sono probabilmente il grill uno è sicuramente il grill non so quale dei due l'altro bisogna capire che cosa fa e qui facciamo un po' di prove per vedere come funziona andiamo avanti guarda che si vede quindi sostanzialmente il forno microonde funziona perfettamente e ancora una volta la colpa è della maledetta elettronica inaffidabile tre semplici tastini e il forno microonde va che è una cannonata ovviamente non lo posso tenere così però mi sono ricordato che nella mia scatola qua dentro di timer e termostati avevo questo che è un timer con regolatore di potenza incorporato per forni a microonde infatti ha due contatti quello dell'alimentazione principale e quello del microonde il grill che è qua staccato ovviamente non ce l'ha perché viene da un forno a microonde senza grill e non serve che vi dica molto chiudiamo con una mano è un casino quindi abbiate pazienza ecco mettiamo proprio al minimo minimo dei tempi perché il motorino funziona adesso non so se ce la faremo a farvelo vedere perché il minimo dei tempi è comunque un tempo abbastanza lungo purtroppo ma comunque l'orologeria qui avanza fa girare avanti questo questo meccanismo qui e fra poco dovrebbe scattare non so quanto poco peraltro peraltro ne approfitto per farvi vedere che l'incastro di questi di queste manopole qua è esattamente lo stesso incastro della manopola originale per cui sto pensando che qui dietro io vi potrei montare quello forando qui sopra e poi aggiungere un interruttore qui da qualche parte per il grill e saremo a posto addirittura al grill potrei mettere un termostat ecco vedete è scattato ha finito il suo ciclo l'acqua è calda ovviamente non ve lo posso come faccio a farvela vedere o bolle e vedete il fumo ma siccome devo fare delle altre prove bene bene quindi alla fine della fiera come è andato a finire abbiamo scoperto che il forno microonde funziona perfettamente io avevo questo timer per forni a microonde ovviamente recuperato da un altro forno microonde che tra l'altro è un timer doppio perché oltre ad avere tempo ha anche questa che è la regolazione della potenza che non è non gira vuoto ha un rimandino che fa girare questa piccola cremagliera qua sicuramente in video non siete e funziona perfettamente sia il timer che il forno microonde col timer l'unica cosa che non è gestita da questo è il grill è il grill perché questo viene da un forno microonde che non ce l'aveva quindi l'idea è prendo questo pannello sfrutto il foro preesistente per la manopola e gli rimetto anche la sua manopola più in alto faccio un secondo foro per la manopola della potenza dove metterò una manopolina un po più piccola di questo in modo che non sia particolarmente impattante a livello di ingombri e nella parte qua sopra dove c'era il display praticherò un piccolo foro per installare un altro pulsante che semplicemente accenderà il grill indipendentemente dal microonde a questo punto il forno potrà tornare perfettamente a funzionare non ha più senso spiantare pezzi per riparare quell'altro perché è perfettamente funzionante eliminiamo quindi l'elettronica lo facciamo diventare un forno microonde elettromeccanico perché come tutti sappiamo l'elettronica a differenza dell'elettromeccanica non è affidabile e lo dico fieramente da elettrotecnico quindi direi di andare a fare queste modifiche per prima cosa dobbiamo prendere le misure per fissare questa struttura qui e dopodiché andare a modificarlo appunto spaccando i supporti che prima tenevano la scheda elettronica e forando dove serve forare per far uscire fuori le manopole direi di spostarci sopra e andare ad operare per quanto possibile qui c'è tutta una lunga fase dove cerco di installare il timer e termostato sulla struttura ci riusciamo ma il lavoro appunto è lungo e quindi lo facciamo velocizzato andiamo alla fine ecco fatto più o meno è entrato dentro sotto è fisso se noi avvitiamo la vite sopra questo non dovrebbe uscire più infatti non esce più vedete lo posso tirare dalla plastica senza che venga via ma ovviamente a condizione che abbia messo la vite qui e siccome le viti qui ci sono prendiamo la vite che andava lì che è questa la andiamo a riavvitare all'interno ecco fatto questo non si muove più qui c'è la regolazione della potenza qui c'è il timer fino duro a dire il vero ma proviamo a ricollegare tutti i vari i vari cavetti qui sotto mettiamoci un goccino di acqua sembra partito qui mettiamo al massimo la potenza così facciamo prima no è freddo quindi tocca andare a scambiare quelli che ho attaccato sopra con quelli che ho attaccato sotto purtroppo con questi timer c'è una sola combinazione di cablaggi giusti cosa migliore sarebbe andare a rivedere che cosa ho filmato prima penso che farò così e come avete visto è tornato a funzionare perfettamente gli ho anche dato una pulita gli ho messo dentro il suo piatto che come si vede gira funziona il grill funziona tutto insomma e tutto questo grazie al fatto che abbiamo eliminato le maledette ed inutili schede elettroniche per costituirle con dei pratici e funzionali comandi elettromeccanici perché che ne dica qualcuno l'elettrotecnica vince sempre vi lascio qua di fianco degli altri video da vedere e noi ci vediamo come sempre mercoledì o sabato con un altro video ciao